Quindi il piccolo San Bernardo l'hanno aperto? L'hanno aperto ieri. E di fatti non vado ancora, aspetto il 31 che aprono il grande. E così riesci a fare la neve, sì. Altrimenti non ha senso. Magari vado domani con gli amici così a prendere il caffè, una roba veloce. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.